Che cosa è la sindrome da disfunzione multipla degli organi? La sindrome da disfunzione d'organo multipla, M.O.D.I.S., è un processo che coinvolge la scomposizione sistemica dei sistemi d'organo, portando il paziente a necessitare di supporto clinico per sopravvivere. Piuttosto che una diagnosi specifica, questo è uno spettro di sintomi e segni clinici. I pazienti in genere necessitano di un ricovero ospedaliero, spesso in un'unità di terapia intensiva, per ricevere un trattamento adeguato. Questa sindrome è sopravvissuta in alcuni casi, ma può causare gravi complicazioni. In genere il processo inizia con un'infezione, che potrebbe essere il risultato di una malattia trasmissibile, una reazione o un intervento chirurgico o traumatico o altri eventi. L'infezione si sviluppa in sepsi e quindi in shock settico, mentre gli agenti infettivi viaggiano attraverso il corpo e il paziente sviluppa una risposta infiammatoria sistemica. Ciò mette a dura prova gli organi e porta a una sindrome da disfunzione multiorgano poiché gli organi interni lottano per far fronte alla malattia. Uno o più organi possono essere coinvolti. Questo era noto come insufficienza d'organo, ma questa terminologia non è del tutto corretta. Quando un organo fallisce, non vi è alcuna possibilità di recuperare la funzionalità e il paziente ha bisogno di supporto per tutta la vita o di un trapianto. Nei pazienti con sindrome da disfunzione multiorgano, è possibile recuperare. Questi pazienti hanno bisogno di supporto medico per mantenere l'omeostasi mentre i loro corpi combattono l'infezione e iniziano a guarire. Il livello di supporto necessario può dipendere dal coinvolgimento dell'organo. Gli organi che possono essere coinvolti possono includere fegato, reni, polmoni e cuore. Anche il tratto gastrointestinale può manifestare disfunzioni e alcuni pazienti sviluppano il coinvolgimento della pelle. I pazienti hanno tipicamente un alto numero di globuli bianchi e possono sviluppare febbre, cuore accelerato e iperventilazione. Alcuni interventi medici per aiutare un paziente con sindrome da disfunzione multipla degli organi possono includere i fluidi per via endovenosa per mantenere l'idratazione, la dialisi per subentrare per i reni danneggiati e la ventilazione meccanica per supportare i pazienti che non riescono a respirare autonomamente. Problemi con la frequenza cardiaca possono essere risolti con la stimolazione meccanica. Tali pazienti sono estremamente instabili e richiedono un attento monitoraggio. In alcuni casi, uno o più infermieri di terapia intensiva possono essere assegnati specificamente a un particolare paziente con sindrome da disfunzione multiorgano per fornire interventi e trattamenti in corso. Se il paziente presenta complicanze, il piano di assistenza può essere adattato per affrontare la situazione. Quando i pazienti entrano in una fase di recupero, possono andare in unità dimagranti dove l'assistenza infermieristica è meno intensiva e vengono forniti meno interventi. L'obiettivo è quello di diplomare i pazienti fino al punto in cui possono funzionare indipendentemente e tornare a casa.